Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro Inter Brescia, buonasera da Fabio Charesa e Beppe Bergomi E grande risposta di Arcari su Snyder, poi Arcari se la prende un po' con i suoi difensori Eccolo Eto' che rientra, Eto' ancora, Eto' due volte sinistro e lì c'è Arcari Pronto a battere ancora Snyder, il tocco è per Milito, Milito con il destro e palla sul fondo Adesso Caracciolo Andrea, Caracciolo, 1-0, vola ancora San Siro Lerone Poi vedi come controlla bene, è il contrasto che qui lo favorisce, vedi nel rimpallo Poi Lusso è in ritardo, non riesce a dare copertura e la va a chiedere bene sul secondo palo Per Coutinho, Maicon è partito come una freccia, Coutinho, la respinta di Arcari Eto' prova ad andare via in area di rigore, Eto' ancora la mette bene dentro per Pander Prova a girarsi, Pander non trova la porta Coutinho, si accentra, Coutinho Era una grande idea, ha calciato bene, pallone alto sopra la traversa Coutinho arriva il traversone verso Pandev, in tre a saltare, poi Obi con il sinistro, deviazione e calcio d'angolo Poi interviene ancora Milito, Bellolo, il pallone dentro per Eto' Eto' in area di rigore Eto' Arcari, ancora Eto' torna in porta Arcari Obi cerca il sinistro, contenuto e poi Baiocco allontana Rientra Eto' dentro per Pander, 1-2, Eto' arriva, calcio di rigore Fallo di Berardi Samuel Eto' e Eto' ottavo gol in campionato Arriva Obi a sostegno, un po' scoperto il Brescia, 5-1 di recupero, Obi! Violentissimo ma non preciso Pandev, Zebinat, Zebinat non si accorge che il pallone è lì Pandev, poi un po' di caos, la palla è per Milito Che si divora al cinquantesimo con i crampi Il gol del 2-1 Tutti sotto la doccia, meritatamente, il Brescia pareggia contro l'Inter, 1-1 a San Siro Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!